Ma avete invitato più volte all'indifferenza, devi essere indifferente, io bene, io vi rispetto, rispetto la vostra opinione, ma vi rispondo indifferenza un cazzo, indifferenza un cazzo, e ti chiedo anche scusa, ma è così, indifferenza una minchia, in queste cose non ci vuole indifferenza, quando si tratta di atti discriminatori, di atti di violenza, ci vuole il pugno duro, ci vuole il bastone, non l'indifferenza, perché non risolviamo i problemi, li aggraviamo, c'è gente che emula sta gente malata, che siano 10, 100, 1000, non fa differenza, va trovata una soluzione, finalmente qualcuno a Verona sta aprendo gli occhi, io spero che si faccia davvero qualcosa, adesso, sembra che vogliano usare il pugno duro, addirittura il Capustras e il Daspo a vita, si sta a pallarmi, ma queste secondo me sono sceneggiate, poi come al solito tutto si sgombia, io non so se è perché c'è di mezzo Balotelli, che ha una pille diversa dagli altri, non lo so francamente, ma vedo un minimo di attenzione, ma adesso che il ferro è caldo, va battuto, va battuto, va battuto, niente, a Verona, molti tifosi, lo so, già mi hanno scritto, ma io c'ero, io c'ero, erano 10, erano 5, non mi interessa un cazzo del quantitativo, anzi, come ho già detto, come ho già detto, se sono pochi, meglio, tanto meglio, perché è più facile isolarli, trovare i responsabili e dare esempio, Daspo a vita, iniziamo con un bel Daspo a vita per sti deficienti, iniziamo con un bel Daspo, dai un piccolo segnale e vedi che anche negli altri stadi la situazione un pochettino, credo, si vada un pochettino ad alleviare, o no, o no, no, se invece siamo indifferenti, questi 10 deficienti che si sono sentiti tranquilli di poter dire, di offendere chi che sia, la prossima volta diventeranno 100, perché quegli altri 90, no, che un po' di timore avevano, non ce l'avranno più e diventeranno 100, poi 1000, poi un milione, così che funziona, e così che funziona, proprio per questa indifferenza, noi negli anni, questo problema non l'abbiamo risolto, ma l'abbiamo aggravato, l'abbiamo aggravato, non risolvi nulla anche con i Daspo? Daspo più lavori forzati, Daspo più galera, facile, facile, perché questa è gente che del calcio se ne sbatte i coglioni, questa non è gente a cui piace il calcio, questa è gente che non ha nulla a che fare con il calcio, nulla, 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 il calcio è un'altra cosa, non ha nulla a che fare con il calcio, cioè in Inghilterra veramente avevano dei pazzi da manicomio in Inghilterra, ci andavano soltanto i pazzi allo stadio, soltanto quei coltellamenti, battaglie, tutto e di più, adesso sono i migliori, sono la miglior tifo, ah no, la miglior tifo, emuliamo, emuliamo queste cose, questo dobbiamo vedere, questo, no, è che in Italia appunto, indifferenza sì, ok, indifferenza è un cazzo, indifferenza è un cazzo, ci vuole disciplina, ci vuole disciplina, ma quale indifferenza? indifferenza se stiamo parlando di un cazzo isolato, un cazzo isolato, ok, è un cazzo isolato, lasciamo correre, vediamo, magari non succede più, ma qua succede ogni volta, in qualsiasi stadio, che poi non è solo una questione razziale ragazzi, il problema è più grave, non è questione che uno va allo stadio, che ne so, burazzisti, balotelli negro, no, il problema è che, oltre questi, ci sono cuori ancora gravosi, più gravosi, tipo, se saltelli muore bario balotelli, questo ha la stessa gravità di un burazziale, ha la stessa gravità, la stessa, non è folclore, come ha detto il, come si chiama, il capultrasse del vero, quale folclore? Io ci sono stato negli stadi, non è che, e voi ci sarete sicuramente stati negli stadi, quindi non facciamo finta che negli stadi, no, tutti i tifosi, tutti i belli, bravi, che incitano la loro squadra, no, lo sai, si incita la loro squadra, la nostra squadra, ma allo stesso modo si cerchi in tutti i modi di svelire l'avversario con offese di una bassezza gravosa, e non serve, questo non serve, soprattutto vanno prese delle decisioni grave, delle decisioni importanti, va fatto qualcosa, non l'indifferenza, indifferenza è un cazzo, la città di Verona adesso che diffida addirittura balotelli, no, 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 non va bene, non va bene, capisco adesso che Verona si senta attaccata perché ha subito magari un'etichetta, ma ci vanno di mezzo i tifosi onesti di Verona, ci vanno di mezzo loro e sicuramente ce ne saranno tantissimi, però non dovete difendere, non dovete difendere il vostro onore cercando di non far nulla contro quei 10, 15, 20, 30 deficienti che comunque sono deficienti, questo è il discorso, la società del Verona inizialmente non voleva nemmeno collaborare con la questura per trovare questi deficienti, non voleva nemmeno collaborare, non va bene, non va bene sta cosa, non va sfatto bene, fortunatamente adesso si è resa disponibile, vediamo un po', cioè il capo ultrass del Verona che va a dire, fa un comunicato in cui dice Mario Ballotelli non sarà mai del tutto italiano, una roba del genere, cioè, ma se questo è il capo ultrass, cosa vuoi, cosa vuoi che ne pensino, chi li segue, chi lo segue a questo qua, cioè, ma veramente, veramente, ma veramente, ma veramente, e non mi pregate di essere indifferente, e io prego a voi di non esserlo, nonostante rispetti la vostra opinione, di non essere indifferente a queste cose, perché proprio con l'indifferenza alimentiamo ste cose, proprio con l'indifferenza, qualcuno adesso potrebbe pensare, ma tu fai tutta sta storia magari perché Ballotelli, no, a me Ballotelli non sta neanche simpatica, infatti ho fatto tantissimi video contro di lui, contro i suoi atteggiamenti, ne ho fatti tantissimo, ma questo non giustifica cori, frustrazione, atti discriminatori nei suoi confronti, non li giustifica, anzi, si passa dalla parte del torto, assolutamente, assolutamente, quindi indifferenza un cazzo, e questo è il mio motto, ci vogliono i d'aspo, almeno quelli, almeno quelli, non dico la galera, non dico i lavori forzati, e sarebbe forse giusto anche questo, non dico quello, ma almeno i d'aspo, almeno allontanarli a vita dagli stradi, perché questa non è gente a cui piace il calcio, questa è gente che del calcio se ne sbatte, che sia ben chiaro, che sia ben chiaro, speriamo, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, like, iscrivetevi al canale.